allora parliamo ancora di grafi oggi e allora riprendiamo molto velocemente dove siamo arrivati con i grafi sappiamo cos'è un grafo sappiamo che esistono vari tipi di grafo quindi il grafo orientato oppure può essere pesato possibilmente sui nodi ok poi sappiamo abbiamo un po di modi con cui rappresentarlo abbiamo la matrice di adiacenza abbiamo la lista di adiacenza senza punto magari così non faccio prima abbiamo la lista di archi e abbiamo la csr ok questo è quello che abbiamo fatto finora sui grafi la prossima cosa che vogliamo fare è se abbiamo un grafo disegno uno un grafo semplice ok una prima cosa molto banale che vorremmo poter fare su un grafo è visitarlo cosa intendo con visitarlo in qualche modo vogliamo avere un modo sistematico per dire voglio partire mettiamo dei numeri a questo grafo tipo 0 1 2 3 4 e 5 mettiamo che parto dal nodo 0 ok io voglio in un qualche modo riuscire a camminare su questo grafo ok camminare non è nel senso di camminare tradizionale perché nel senso di camminare tradizionale potrebbe essere una camminata in qualche modo continua cioè nel senso una camminata che passa per gli archi io in qualche modo voglio visitare questo grafo non per forza dovendo per forza camminare veramente ma magari posso anche teletrasportarmi cioè metto anche il teletrasporto in un modo sistematico però che mi permette di visitare tutti quanti i nodi a partire da un nodo dato ok perché se io adesso dico voglio visitarli tutti beh allora intanto un modo molto semplice ed è sistematico anche questo però vedremo vediamo che non è troppo significativo gli altri modi sono più significativi potrebbe essere beh li visito in ordine dell'indice di nodo quindi visto prima questo poi questo poi questo poi questo poi questo e poi questo quindi 0 1 2 3 4 5 li ho così li ho presi in considerazione tutti e questo è un modo è semplicemente scorre un vettore fondamentalmente se ci fossero dei pesi sui nodi devo solo fare dei calcoli per ogni nodo su tipo il valore del peso del nodo per dire posso scorrerli così e ho fatto però vogliamo delle visite un pochino più naturali in un qualche senso e magari così date queste visite riusciremo a costruirci sopra cioè riusciremo a trarne delle informazioni utili da queste visite ok allora la prima visita le due visite che vediamo oggi saranno la dfs e la bfs allora dfs e bfs stanno per depth first search e breath first search ovvero ovvero dfs sta per visita in profondità e invece bfs sta per visita per ampiezza nella traduzione italiana la d sta per profondità a depth e breath sta per ampiezza ok vediamo come funzionano queste due visite allora partiamo dalla dfs la dfs è una visita di tipo ricorsivo quindi abbiamo il nostro grafo ok 0 1 2 3 4 e 5 allora la dfs funziona in questo modo intanto come l'altra come tutte ha bisogno di un nodo di partenza mettiamo che sia 0 in questo caso e poi ha bisogno di un vettore di supporto lungo tanto quanti sono i nodi ok quindi 0 1 2 3 4 5 ok che mi dica per ogni nodo se l'ho già visitato oppure no ok è un vettore che ci dice se un certo nodo l'abbiamo già visitato oppure no allora come funziona la dfs la dfs è una procedura ricorsiva è una certa chiamiamola proprio dfs di un certo nodo v e cosa fa? beh la prima cosa che fa è dire che v l'ho visitato perché se faccio dfs di v se sono nel nodo v vuol dire che quel nodo v l'ho visitato quindi prima cosa chiamiamo questo vettore b la prima cosa che fa è che diciamo che b di v metto una spunta che però sembra troppo un come si chiama sembra troppo una v mettiamo una t maiuscola per true la prima cosa che fa è che dice che il nodo partiamo da 0 quindi il nodo argomento l'abbiamo visitato dopodiché quello che fa è che per tutti quanti i vicini di v ok quindi per chiamiamo n in vicinato di v vi ricordo che n è la funzione di vicinato la n è grossa quello che fa è che se il nodo n non l'ho già visitato ovvero se in una notazione simil c se questo qua è un punto esclamativo se non ho visitato il nodo n ok allora visita il nodo n questa è una semplicissima procedura ricorsiva ok che visita in modo sistematico tutti i nodi del grafo a partire da un nodo dato quindi come funzionerà chiamiamo dfs di 0 per far partire la nostra visita ok e dice beh 0 l'ho visitato e dopo chiamo ricorsivamente su tutti quanti i vicini quindi poi chiamerà su 1 ok cioè per tutti quanti i vicini di 0 i vicini di 0 sono 1 e 2 quindi cominciamo a considerare 1 e mi chiedo l'ho visitato 1 beh no allora lo visito quindi vado su 1 ora sono qua e dico prima cosa lo visito cioè dico che l'ho visitato dopodiché prendo tutti i suoi vicini e mi chiedo io ho già visitati beh i suoi vicini chi sono 0 2 e 3 0 l'ho già visitato sì e quindi non lo rivisito 2 l'ho già visitato no allora l'ho visto ok e quindi qua siamo passati a 2 quindi se facciamo lo se scriviamo quali sono le chiamate che abbiamo fatto abbiamo fatto dfs di 1 ora stiamo facendo dfs di 2 ok e cosa dico beh 2 l'ho visitato ci sono in questo momento e prendo i vicini 0 1 4 5 0 0 l'ho già visitato sì 1 l'ho già visitato sì 4 l'ho già visitato no allora ora vado chiamo dfs di 4 lo metto visitato sono qua ok chi sono i vicini 2 5 l'ho già visitato 5 non l'ho visitato mi sposto di là di fs di 5 ok chi sono i vicini di 5 2 4 beh li ho già visitati entrambi e quindi non faccio niente e questa procedura ricorsiva ritornerà e ora siamo di nuovo qua al 4 4 adesso ha visitato tutti i vicini ritorna e va al 2 2 ha già visitato tutti quanti vicini ok perché 0 1 4 5 sono già visitati e quindi ritorna anche lui ok torniamo su 1 1 ha già visitato tutti i vicini no ci manca il 3 ha chiesto 0 se l'ha già visitato ed era già visitato ok 2 era già visitato 3 non è ancora stato visitato e allora lo visita quindi chiamerà dfs di 3 ok quindi siamo qua lo segnerà come visitato e adesso non è difficile vedere che tutte quante ritorneranno perché non c'è più nulla da visitare quindi la dfs è una procedura ricorsiva per visitare il grafo che parte da un certo nodo e dice beh questo nodo l'ho visitato e poi tutti i vicini che non ho ancora visitato li visito questa è come questa è questo come funziona la dfs ok è solo un modo sistematico di visitare un grafo poi vediamo se può esserci utile in altre situazioni ma intanto questo è solo la descrizione di un modo sistematico di visitare il grafo ok guardiamo adesso l'altra visita ovvero quella per ampiezza come funziona facciamo un altro grafo facciamo sempre un grafo così ok facciamolo così ok e cominciamo sempre ad avere il grafo e abbiamo 0 1 2 3 4 5 e abbiamo sempre il nostro vettore di quelli che abbiamo già visitato e abbiamo sempre un nodo di partenza mettiamo che sia zero ok come funziona la bfs la bfs si basa su una struttura dati che abbiamo visto che abbiamo già visto ovvero la coda la q vi ricordo molto brevemente che la q è una struttura dati dove possiamo fare push e dove possiamo fare push e pop e è una struttura di tipo fifo ovvero quando facciamo push li mettiamo in coda quando facciamo un pop prendiamo il primo elemento che era stato messo in coda ok quindi abbiamo una q una q che chiamiamo q e come funziona l'algoritmo l'algoritmo funziona in questo modo inizialmente in q ci mettiamo quindi facciamo push del nodo di partenza ovvero 0 e poi diciamo mentre la coda non è vuota ok quindi con le operazioni che avevamo possiamo dire mentre q punto sites è maggiore di 0 ovvero mentre la coda non è vuota cosa facciamo beh prendiamo il nodo che è in testa in coda quindi facciamo punto pop diciamo che quel nodo l'abbiamo visitato cioè lo stiamo visitando in questo momento e poi quello che facciamo è che prendiamo tutti i suoi vicini quindi for questa volta lo chiamo i vicini li chiamo m ok per tutti quanti i vicini di n quello che facciamo allora devo un attimo spostare il codice perché mi sono appena ricordato che nella registrazione quindi per chi sta guardando su youtube l'angolo in basso a destra viene non si vede quindi questo codice lo sposto qua perfetto lo dicevo prendiamo tutti quanto il vicinato di n e quello che facciamo è che diciamo che se non l'abbiamo ancora visitato ok quindi se non abbiamo ancora visitato bdm beh allora lo mettiamo in coda per essere visitato quindi facciamo q punto push dm ok questo è l'algoritmo quindi abbiamo una coda q nella coda ci mettiamo il nodo di partenza e poi diciamo beh mentre la coda non è vuota quindi mentre ho ancora una coda di nodi che devo visitare quello che faccio è che prendo il primo nodo in coda lo segno come visitato prendo tutto il suo vicinato e tutti i nodi del vicinato che non ho ancora visitato li metto in coda per essere visitati ok quindi come funzionerà mettiamo che questa è la coda quindi in coda inizialmente ho zero cosa faccio prendo questo zero ok lo segno come visitato e poi prendo tutti i suoi vicini che non ho ancora visitato e li metto in coda quindi uno e due e finisce qua cosa poi la coda è vuota no allora cosa faccio prendo il primo elemento uno lo segno come visitato e prendo tutti quanti vicini di uno che non ho ancora visitato quindi due tre e quattro ok ora potete notare che mi sono dimenticato un pezzettino importante il pezzettino importante è questo che l'avrete notato spero dal fatto che qua sto visitando due volte cioè ho messo in coda due volte il nodo 2 e non è bello e il pezzettino importante che mi sono dimenticato che adesso vedo se riesco ad aggiungere senza fare troppi danni ok facciamo che faccio così faccio prima perfetto allora il pezzettino importante che mi sono dimenticato è che potrebbe capitare potrebbe benissimo capitare che metto in coda più volte lo stesso nodo nella bfs l'importante è che faccio un controllo per cui non visito il nodo due volte allora cosa faccio quando lo estraggo dico che se sto nodo se bdn ovvero se l'ho già visitato beh allora continuo continuo cosa vuol dire vuol dire che schippo tutto quello che c'è sotto e vado al prossimo ciclo del while cioè se l'ho già visitato se il nodo n l'ho già visitato allora non devo rivisitarlo ok e dicevo quindi eravamo all'1 e ho messo dentro 2 3 4 a questo punto prendiamo il 2 ok lo assegniamo come visitato perché non l'ho già visitato prendo tutti quanti i vicini che sono 0 1 3 e 5 e metto in coda quelli che non ho visitato 0 l'ho visitato 1 l'ho visitato 3 non l'ho visitato faccio andare giù la coda e 5 non l'ho visitato ok vado avanti prendo di nuovo il 2 beh a sto giro però il 2 l'ho già visitato e quindi non faccio questo ciclo e vado al prossimo prendo il 3 lo segno come visitato ok e cosa faccio metto tutti i vicini che non ho ancora visitato però il 2 l'ho già visitato l'1 l'ho già visitato e quindi non devo fare nient'altro poi prendo il 4 che è il prossimo in coda lo segno come visitato i vicini ho 1 e 5 1 l'ho già visitato 5 non l'ho ancora visitato lo metto in coda prendo il 3 l'ho già visitato e non faccio niente prendo il 5 lo segno come visitato perché non l'ho ancora visitato i vicini sono 2 e 4 li ho già entrambi visitati quindi non faccio niente prendo ancora il 5 l'ho già visitato basta non devo fare nient'altro ok questa è come funziona la BFS ovvero la visita per ampiezza tiene una coda di quelli da visitare una coda fifo e poi li visita in quell'ordine mettendo in coda i vicini ogni volta ok queste sono solo due algoritmi di visita vediamo come possiamo sfruttarli per rispondere a varie domande ma un grafo non può avere dei nodi che non sono vicini di nessuno questa è un'ottima domanda ed è proprio uno dei primi problemi che vogliamo risolvere il fatto è questo noi finora io finora ho sempre disegnato dei grafi ok tipo questo per dire ho sempre disegnato dei grafi che hanno una proprietà particolare ovvero che sono connessi cosa vuol dire che un grafo è connesso? vuol dire che esiste sempre un percorso e per un percorso intendo la cosa classica di un percorso quindi andare da nodo a nodo passando per gli archi data ogni coppia di nodi esiste un percorso che li congiunge questa è la definizione di grafo connesso e finora ho sempre disegnato grafi connessi però non è detto che un grafo debba essere connesso ok un grafo potrebbe benissimo essere anche questo questo è un grafo validissimo il fatto è che questo grafo semplicemente non è connesso allora per parlare una proprietà che un grafo può cioè una proprietà dei grafi la connettività è una di queste quindi in questo caso non è connesso perché tipo tra questo nodo e questo nodo non esiste alcun percorso che li congiunge una proprietà dei grafi che ci potrebbe interessare è sapere quante componenti connesse ha ovvero cos'è una componente connessa una componente connessa è un insieme di nodi che sono tra cui esiste un percorso per ogni coppia di quel sotto insieme di nodi tipo in questo caso questa è una componente connessa e questa è un'altra componente connessa questo grafo ha due componenti connesse ok questo grafo se adesso faccio questo grafo così ok questo grafo ha tre componenti connesse questo grafo ha tre componenti connesse perché c'è questa questi nodi sono tutti connessi tra di loro cioè esiste un percorso tra ogni coppia di questi esiste un percorso tra ogni coppia di questi e esiste un percorso tra ogni coppia di questi quindi un primo problema se è chiaro cosa sono le componenti connesse di un grafo un primo problema potrebbe essere dato un grafo G dimmi quante componenti connesse ha domanda per voi dato un grafo quante componenti connesse ha abbiamo un modo di sfruttare uno degli algoritmi che abbiamo visto per trovare la risposta a questo problema magari per esempio non so adesso mi viene in mente BFS perché è il giro ora potremmo vedere che alla fine del ciclo se uno dei nodi non ha né true né false allora non è tutto connesso allora intanto due cose credo che tu abbia detto BFS quindi giusto? ricerca per ampiezza ok vi chiedo di dire più che DFS e BFS dite profondità o ampiezza perché almeno così capisco cos'è perché D e B si confondono allora poi seconda cosa il grafo dei visitati in realtà inizialmente ha tutti false e che io non li ho messi solamente perché poi così non devo cancellarli però tutti false all'inizio però l'idea a parte queste due cose l'idea è giusta ovvero cioè l'idea è nella direzione buona perché Stefano dice se facciamo una BFS ok prendiamo un nodo qualunque in realtà questo facciamo una BFS ok quindi cosa succederà? che un po' di posizione andranno true ok e ci dice beh se c'è ancora almeno un false allora sicuramente non è connesso il grafo questo è quello che ci ha detto quindi questa cosa risponde alla domanda il grafo è connesso fai una BFS ad un nodo qualunque se il l'array dei visitati è tutto true alla fine la risposta è sì se c'è almeno un false la risposta è no però la domanda è diversa la domanda è qual è il numero di componenti connesse? cioè quante sono le componenti connesse? scusami è sfuggito un attimo cosa sono le componenti connesse ok allora una componente connessa ok è un sotto insieme di nodi il sotto insieme di nodi può essere questo ma può essere anche questo ma può essere anche questo cioè un sotto insieme di nodi è un sotto insieme ok è un sotto insieme di nodi massimale connesso ovvero cosa vuol dire? allora sotto insieme di nodi ok abbiamo capito cosa vuol dire sotto insieme di nodi è un sotto insieme di nodi connesso vuol dire che deve valere la proprietà di connettività ovvero che se faccio ovvero che esiste sempre un percorso tra ogni coppia dei nodi del sotto insieme massimale vuol dire che non posso aggiungere altri nodi che fanno rispettare ancora quella proprietà della connettività ad esempio se io prendo questi due nodi ok questi due nodi sono un sotto insieme di nodi ovviamente sono connessi perché esiste un percorso tra ogni coppia di nodi in questo caso ci sono una coppia ma non è massimale non è massimale perché ci sono dei nodi che posso aggiungere a questo sotto insieme che ne preservano la connettività ovviamente non posso aggiungere questo nodo perché non mantiene la connettività non posso aggiungere questo nodo perché non mantiene la connettività però posso aggiungere questo nodo ok? quindi questo qua non è massimale questo è massimale massimale perché non esiste un altro nodo ok? che mi permette di di essere aggiunto questo sotto insieme e che mi mantiene la connettività quindi una componente connessa è questo la domanda ora è un grafo dato un grafo quanti componenti connessa? ma io allora farei una profondità per ogni nodo e vado a vedere quanti tipi di vettori vengono alla fine non ho capito faccio una profondità una visita per profondità per il nodo 0 e quindi mi verrà pensando che quello lì è 0 mi viene che sono true soltanto questi 3 qua poi lo faccio per l'1 e il 2 è sempre uguale se lo faccio invece per il 3 che non lo so potrebbe essere dell'altro sotto insieme vengono true soltanto il 3 e il 4 e il 5 e gli altri no e quindi vengono alla fine tre tipi di vettori ok 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 ho capito allora questa soluzione mi pare corretta pensiamo però un attimo qual è la sua complessità computazionale pensiamo intanto qual è la complessità computazionale di una visita in realtà non è difficile vedere adesso con un abuso di notazione anzi senza abuso di notazione chiamiamo n l'ordine e chiamiamo m il numero di archi ok non è difficile vedere che sia la bfs sia la dfs entrambe ci mettono tempo o grande di n più m devo dire ancora qualche dettaglino qua però non è difficile vedere in realtà c'è un piccolo dettaglino che io in entrambi i codici se vi ricordate ho usato ad una certa un for per chiamiamolo v nel vicinato di un altro nodo più meno s ok in entrambi le procedure ho usato questa cosa qua ora per poter ottenere questa complessità ok ci serve un modo per sapere velocemente ok chi sono i vicini vogliamo sapere chi sono i vicini velocemente non tutte le rappresentazioni del grafo ci permettono di fare questa cosa e in realtà ce ne sono solo due che ci permettono di fare questa cosa delle quattro che abbiamo visto che sono la lista di adiacenza e la csr quindi importante queste complessità valgono solamente se stiamo usando o la lista di adiacenza o la csr per fare la nostra visita se no non è questa la complessità della visita ok questo era un piccolo dettaglio poi se adesso io non derivo precisamente la complessità ma perché è banale non perché sia difficile però magari poi riprendete l'algoritmo e vedete se vi esce anche a voi n più m dovete stimare quante volte viene eseguito da una parte nell'ampiezza quante volte viene eseguito il ciclo quanto costa l'operazione dentro il ciclo e avanti così invece nel nella dfs dovete quante volte viene invocata la funzione ricorsiva e quanto costa la la ricorsione ok quindi comunque entrambe sono grandi n più m se si usa la rappresentazione giusta ora stefano ci diceva che un modo è faccio una dfs da ogni nodo quindi già stiamo parlando di n per qualcosa ok faccio una dfs da ogni nodo quindi sarà n per facciamo già ino grande giusto per n per n più m perché faccio una visita da ogni nodo e poi quello che devo fare devo vedere quanti vettori diversi ci sono ora vedere quanti vettori diversi ci sono si fa anche facciamo fin da che si faccia in tempo abbastanza veloce ma in realtà credo si faccia in quadratico comunque però magari si fa di meglio ma non ci interessa quindi se assumiamo che quella parte la si faccia più velocemente di questa possiamo dire che questa questo algoritmo qua ci mette o grande di n quadro più n m ok è corretto è assolutamente corretto però si può fare di meglio possiamo abbassare la complessità per calcolare il numero di componenti connesse quello che potremmo fare è la seguente cosa allora cominciamo prendiamo un un nodo a caso e ci facciamo una o dfs o bfs indifferentemente non ci interessa ok quindi avremo b ok che saranno un po' di true e false e cose inizio tutto false quando finisco ci saranno un po' di true e false ok allora cosa faccio beh se sono tutti true ho finito e la risposta è 1 se invece c'è almeno un false cosa faccio? mantengo il vettore dei visitati ok mantengo il vettore dei visitati e faccio ripartire la visita da un qualunque nodo che non ho ancora che non avevo visitato quindi i t quali saranno? beh saranno questi ok tutti gli altri saranno f io faccio ripartire la visita da un nodo a caso che non ho ancora visitato tipo questo e quindi si riempirà ancora eccetera eccetera e cosa faccio? ogni volta ho un contatore c che parte da 0 ogni volta che devo avviare una visita ok lo aumento di 1 quindi la prima visita sarà andata a 1 ora ne ho fatto un'altra avrà messo questa visita true tutti questi nodi qua e il contatore lo metto a 2 adesso sono tutti quanti visitati? no allora cosa faccio? faccio partire un'altra visita da il da un nodo qualunque che non ho ancora visitato tipo questo e aumento il contatore di 1 e vado avanti così finché non ho tutti quanti true nel vettore t nel vettore b perdono cioè finché non li ho visitati tutti alla fine la risposta il numero di componenti connesse sarà il valore di c ovvero quante visite ho dovuto fare non sembra troppo dissimile questo algoritmo da quello suggerito da Stefano in realtà l'unica cosa che cambia cioè cambia un pochino cambia il concetto chiave che cambia è che non butto via il vettore dei visitati ogni volta ok ma allora vediamo la complessità beh io faccio la prima visita ok mettiamo che questi nodi qua e questi archi qua allora chiamiamo i nodi qua come n0 facciamo questa la componente 0 qua ci sono n0 nodi ed m0 archi qua ci sono n1 nodi ed m1 archi e qua ci sono n2 nodi ed m2 archi allora converrete con me spero che sicuramente n è uguale a n0 più n1 più n2 e m è sicuramente uguale a m0 più m1 più m2 giusto? fino a qua direi che siamo d'accordo ma allora cosa ho fatto io? io ho fatto una visitata a un nodo qualunque ok e mettiamo che sia la componente 0 allora cosa ho fatto? ho speso 1 grande di n0 più m0 ora cosa faccio? devo prendere un nodo che non ho ancora visitato ma come faccio a prendere intanto come faccio a prendere un nodo che non ho ancora visitato? io potrei scorrere per trovare questo nodo che non ho ancora visitato io potrei scorrere il vettore dei visitati da sinistra verso destra ok e fermarmi sul primo false quindi faccio una passata lineare e quindi ci costa un più grande di n che poi se ne andrà e cosa faccio? faccio la visita ogni volta ma quindi io faccio visite ogni volta essendo che visto solo cioè faccio partire visite solo da nodi che non ho ancora visitato vuol dire che faccio partire visite solamente in componenti connesse che non ho ancora visitato ma allora farò esattamente una visita per ogni componente connessa quindi il costo totale di quest'algoritmo sarà o grande di n0 più m0 più o grande di n1 più m1 più o grande di n2 più m2 cioè o grande di n2 più m2 ma allora questa cosa è uguale a o grande di n più m per questo fatto qua quindi ho trovato un algoritmo lineare ok e ho trovato un algoritmo lineare che trova il numero di componenti connesse utilizzando una di queste due visite indifferentemente potrebbe essere una dfs potrebbe essere una bfs tutto chiaro fino a qua? ok bene questo è uno degli algoritmi più semplici in assoluto cioè uno dei problemi più semplici in assoluto che è contare il numero di componenti connesse ok c'è un bel erase globale andiamo adesso trattiamo un problema di quelli un pochino più carrozzati però un caso semplice per ora ok ovvero ora trattiamo il problema del cammino minimo tra due nodi cosa intendo con il problema del cammino minimo abbiamo un grafo ok tipo questo per dire diamo dei numeri quando dico grafo intendo ovviamente grafo semplice se non dico nient'altro intendo grafo semplice abbiamo un grafo semplice e mi posso fare la seguente domanda se io parto dal nodo 0 per dire chiamiamolo s e voglio arrivare nel nodo t ok quindi il 7 qual è il percorso minimo ovvero il percorso che passa da meno archi possibili o da meno nodi possibili evidentemente per arrivare da s a t beh ce ne sono tantissimi di percorsi che vanno da s a t potrei andare di qua ok e in questo caso il percorso sarebbe lungo 1 2 3 4 potrei andare di qua e in questo caso il percorso sarebbe lungo 1 2 3 4 anche di qua oppure potrei andare per esempio così e il percorso sarebbe lungo 2 che mi sa che è anche l'ottimo che è il minimo però potrei anche andare così ad esempio ci mette 1 2 3 4 anche questo va bene quindi ce ne sono tantissimi di questi percorsi io mi chiedo qual è il percorso minimo che va da s e arriventi in un grafo semplice quindi abbiamo un grafo semplice questo è il problema del cammino minimo e vediamo oggi come si risolve il problema del cammino minimo su un grafo semplice e nel grafo semplice è abbastanza semplice la questione domani invece vedremo come si risolve in un grafo pesato dove è meno semplice la questione allora per risolvere questo problema utilizzeremo l'algoritmo della BFS quindi della ricerca per ampiezza e lo modifichiamo leggermente per ottenere allora cominciamo intanto a affrontare un problema un pochino più semplice non voglio sapere qual è il percorso ok non voglio sapere proprio qual è il percorso ma voglio sapere invece quanto lungo il percorso minimo cominciamo da questo problema che è leggermente più semplice quindi in questo caso la risposta voglio che sia 2 allora come modifico la BFS? in realtà la BFS rimane più o meno uguale allora abbiamo sempre la nostra coda q abbiamo sempre il nostro vettore di visitati che adesso sarà enorme ok b se non ci scrivo niente intendo false ok e abbiamo un altro vettore di supporto chiamiamolo di sempre lungo quanto il numero di nodi ok che lo teniamo all'inizialmente non inizializzato valori a caso 0 qualunque cosa allora come funzionava la BFS devo ancora fare uno scambio perché andrò sicuramente a scrivere imposti reconditi allora lo metto qua il grafo lo scrivo qua ok come funzionava il nostro algoritmo beh la prima cosa che facevamo ho detto che era un qpush di 0 e noi questa volta facciamo un qpush di s in questo caso ovviamente s è 0 però se dobbiamo partire da s che potrebbe non essere 0 scrivo s per essere un pochino più generico quindi pushiamo s per quello che facevamo e che dicevamo cosa facevamo un while facciamo un while q.sites maggiore di 0 e facciamo cose allora facciamo una cosa questo qua B è inizializzato a false all'inizio e facciamo che D non è non inizializzato ma lo inizializziamo a 0 ok così ha un valore bene cosa facciamo cambiamo leggermente come funziona la BFS nello specifico facciamo questo prima quello che facevamo è che emettevamo che un nodo era visitato quando lo tiravamo fuori dalla coda ok ma se ci pensiamo possiamo equivalentemente fare che mettiamo un nodo che inizializziamo che mettiamo un nodo come visitato quando lo stiamo per mettere in coda è solo un momento diverso ma lo facciamo in questo modo quindi se abbiamo fatto q push di S prima lo inizializzavamo mettevamo true sui visitati su B quando lo tiravamo fuori dalla coda visto che adesso vogliamo metterlo invece quando lo mettiamo in coda lo mettiamo qua quindi dopo q push di S diciamo che B di S è uguale a true e un'altra cosa che facciamo è che diciamo e in questo caso si non serviva veramente questa cosa da zero però vabbè diciamo che D di S è uguale a zero in D quello che vogliamo che ci sia è la distanza minima per raggiungere D di X da S quindi ovviamente se devo raggiungere S da S la distanza è zero la distanza minima è zero perché ci sono già ok cosa faccio allora? beh cominciamo a prendere il nodo all'inizio della coda quindi dico che B è come si chiama q.pop quindi estraggo il primo nodo della coda ok e faccio questa volta non faccio più il controllo del fatto se l'ho già visitato perché sto segnando che lo visito non quando lo straggo ma quando lo metto e quindi non mi capiterà mai di visitare due volte uno stesso nodo in questo modo perché sto segnando che l'ho visitato quando lo devo mettere in coda quindi se qualcuno prova a metterlo in coda di nuovo beh non ce la farà perché era già visitato allora cosa faccio? dico per tutti quanti i vicini di V chiamiamoli V ok cosa faccio? se non ho già visitato V cosa faccio? questa volta faccio due cose sposto un po' a destra il grafo ok faccio due cose dico beh intanto lo visito perché abbiamo detto che segno che lo visito quando lo voglio mettere in coda quindi B di V uguale T poi poi lo metto in coda quindi Q.push V e faccio un'altra cosa dico che la distanza per raggiungere V sarà uguale alla distanza per raggiungere V più 1 ovvero sto dicendo se sono riuscito ad arrivare nel nodo V facendo D di V passi allora posso sicuramente raggiungere il nodo V facendo D di V più 1 passi quando alla fine tutto questo sarà finito quello che stavamo cercando era la distanza del nodo T beh non dobbiamo fare altro che adesso scrivo un return per dire che questa è la risposta di D di T perché alla fine di questo algoritmo quando lo visitano tutti quanti i nodi in ciascun nodo ci sarà la distanza di quel nodo rispetto al nodo sorgente S questo è l'algoritmo per calcolare la distanza minima tra due nodi in un grafo semplice vediamo come funziona allora cosa succederà beh all'inizio quindi la sorgente mettiamo che sia 0 qua viene una T e qua viene una T ok prendo il nodo in coda e mettiamo quindi che la coda è questa e inizialmente quindi ci sarà 0 ok levo lo 0 dalla coda per tutti quanti i vicini i vicini sono 3 e 1 e 5 cosa faccio l'ho già visitato beh non ho ancora visitato nessuno dei vicini quindi li visito tutti segno che l'ho visitato quindi 1 sarà true e ci metto ah tra l'altro qua scusatemi non è una T questa ovviamente non è una T ma è uno 0 perché qua l'inizio ha detto 0 dicevo 1 non l'ho visitato quindi lo visito e metto come distanza di 1 la distanza del nodo da cui lo sto visitando quindi 0 più 1 e quindi 0 più 1 questo è a distanza 1 l'altro vicino che è il 5 T e metto 1 e l'altro vicino è il 3 ah e non dimentichiamoci che devo anche aggiungere alla coda bene prendo il prossimo 1 1 che ha dei vicini 0 e 2 0 l'ho già visitato beh sì 2 non l'ho già visitato e allora lo visito lo metto in coda e metto come distanza 2 in questo caso perché giustamente è la distanza di quello da cui sto visitando più 1 poi che ho finito poi incodo il 5 5 come vicini 2 4 e 7 2 l'ho già visitato quindi niente 4 non l'ho ancora visitato quindi metto t e qua metto la distanza di 2 perdono la distanza di 5 che è 1 più 1 quindi 2 ok e lo metto in coda e poi ho 7 7 non l'ho visitato e metto 2 e lo metto in coda ok poi con 5 finito mettiamo 3 3 come vicini 0 e 4 sono già entrambi visitati quindi non faccio niente 2 2 come vicini 1 e 5 entrambi visitati già non faccio niente 4 3 e 5 sono già visitati 6 invece non è ancora stato visitato e allora lo visito e metto t e metto 3 e metto il 6 in coda e col 4 finito 7 come vicini 5 e 6 già visitati e 6 come vicini 4 e 7 già visitati alla fine di questo algoritmo quello che succederà è che i in d ci sarà per ogni nodo la distanza minima dal nodo s ora è chiaro come funziona non perché funziona è chiaro come funziona questo algoritmo ok lo prendo come un sì la domanda adesso è perché funziona questo algoritmo l'unico l'unica cosa da notare è che questo algoritmo praticamente quello che sta facendo è creare dei fronti di percorsi minimi ovvero si parte col fronte dei nodi a distanza 0 ok che è per forza è per forza solamente il nodo iniziale cosa succederà che poi nella coda il primo nodo sarà beh proprio quello del fronte a distanza 0 ma allora cosa farà questo nodo del fronte a distanza 0 aggiungerà farà un fronte dei nodi a distanza 1 e aggiungerà quindi 1,5,3 a i nodi che hanno distanza 1 ora cosa succederà che quindi verranno nella coda tutti i prossimi saranno quelli proprio a distanza 1 ma allora cosa succederà che verranno processati man mano loro creeranno un fronte della distanza no in realtà com'è la questione è così si loro creeranno un fronte della distanza 2 ok e poi a loro volta 2 creeranno fronte alla distanza 3 ora la domanda è questa non potrebbe essere che magari io metto una distanza più alta di quella che non potrei veramente fare in un certo nodo no questa cosa non può capitare perché se un nodo a distanza 2 se un nodo a distanza n allora la cosa ottima è che lo prenda come vicino cioè lo aggiunga al sette il valore di t un vicino che ha distanza n meno 1 ma la coda ha la proprietà che prima di andare a processare i nodi del fronte notate che qua sono quelli di 0 che sono quelli di 1 poi c'è 2 questi sono quelli di distanza 2 questo è distanza 3 prima di andare a processare i nodi di un fronte di distanza più alta processa tutti quanti i nodi del fronte di distanza minore questo cosa vuol dire? che se un nodo è raggiungibile con una certa distanza n allora sicuramente prima che qualcuno di distanza maggiore o uguale a n lo possa avere come vicino se esiste un vicino che ha distanza n-1 l'avrà già preso lui e quindi avrà la distanza corretta avrà la distanza minima questo è concettualmente solo concettualmente il perché il perché questo algoritmo funziona ha un senso le cose che ho detto non chiedo che proprio siano crystal clear ma almeno ha un senso generale quello che ho detto ma io in generale ho capito certi particolari mi devo andare a vedere dopo ok perfetto cioè il fatto fondamentalmente che si creano questi fronti ok di distanze minime e ogni volta prima di processare il fronte dopo che perché il fatto che se processassi ad esempio se io processassi prima processo tipo il 3 ok poi però processo il 4 prima di processare 1 e 2 ok poi processo 6 poi processo 7 mettiamo che ci sia un altro arco ok prima ancora di processare l'1 cosa succede? che magari a questa qua se facessi in quest'ordine quindi faccio così se li processassi in quest'ordine questo potrebbe avere distanza 1 2 3 4 5 potrebbe avere distanza 5 però questa cosa non può mai succedere perché non posso processare questo arco ok non posso dire vado avanti da 4 prima che non ho finito tutti quelli del fronte 1 e quindi questo qua che è distanza 2 se lo sarà preso prima questo e sicuramente questo qua del fronte 1 lo processa prima del 4 che è del fronte 2 questa è un po' l'idea generale bene ci sono domande su tutto quello che abbiamo fatto oggi? ok lo prendo come un no per oggi abbiamo finito un po' l'idea generale su l'idea力 l'idea su l'idea su Grazie.